Ma come? Te la volevi sbignare, ma gli avresti dato ragione a questo punto. Non. Non in questo. È che io sono... Sono venuta in Italia per cercare di dare un futuro migliore a me... A mio figlio. Ma non ci sono riuscita. Iori a lui mi odia. Gli ansi di cui mi odiano, tutti mi odiano. Non so più che devo fare. Eccovi. Ti abbiamo cercato ovunque. Che ci è successo? Questa volta hanno veramente esagerato. Solo oggi mi sono fatta sei dolci. Ecco perché vado via. Anche io. Stavo pensando di molare. Signorine, mi pare che il vostro problema principale siano quei quattro... ...scavezzacolli. Sentite, facciamo una cosa. Rimandiamo ogni decisione a domani. Domani le cose saranno molto diverse. E... ... ... ... Grazie.